buon pomeriggio scusate non era un video previsto questo ma è venuta fuori una questione importante che abbiamo voluto verificare allora le ricariche dell'adi sembra che gli unici che hanno ricevuto la ricarica siano stati quelli che aspettavano degli arretrati le ricariche ordinarie cioè quelle che avrebbe dovuto essere sulla carta o non sono arrivate o sono arrivate a zero cioè la carta è stata caricata con zero euro è ovvio che c'è un errore e questo errore da qualche parte arriva se lo dividono tranquillamente poste e in se ve l'ho detto non ti è che facciano scarica barile sono tutte e due responsabili di quello che combinano non si può dire sempre e ma noi non c'entriamo tutte e due responsabili rimane il fatto che appunto avete le carte che sono vuote secondo loro hanno caricate che è un'assurdità o proprio non le hanno ancora caricate è un'altra assurdità anche se come giustamente vi ho fatto notare più di una volta moderatore non è come l'rdc in cui si caricava il 90 per cento delle carte non caricate lo stesso giorno e poi gli eventuali residui qui si parte da un giorno e poi si prosegue per i quattro cinque giorni lavorativi in cui deve essere compiuta l'operazione quindi il fatto che non ci sia il giorno stesso in cui vi consegnano la carta il giorno dopo non significa granché hanno questi giorni però però qui siamo di fronte al fatto che le carte avrebbero dovuto essere caricate e o non le ha caricato le hanno caricate a zero che è una cosa completamente completamente folle e per chiudere devo dare ragione a mister l'ulma è una cosa che io dico da un bel po dico da un bel po poi però io la dico ma entra da un ora e esce dall'altra io non credo la buona fede io credo la mala fede credo la mala fede perché queste situazioni stanno accadendo troppo spesso e stanno accadendo soprattutto da quando c'è questo governo perché le problematiche con l'rdc comunque ricordatevi l'rdc è finito con questo governo in carica con ricariche sfalsate ricariche sbagliate sospensioni poi che non che non dovevano essere sospese poi hanno sospese poi le hanno riattivate lavorazioni fatte male si stanno presentando con questo governo e si stanno replicando con l'adi anche qui abbiamo lavorazioni non omogenee lavorazioni fatte quando capita cariche appunto fatte quando capita e sono scaduti 60 giorni secondo l'inps dopo 60 giorni scattava il silenzio assenso scattava l'accoglimento automatico fattualmente praticamente nessuno ha visto scattare questa tranne pochi di voi la maggior parte non ha visto scattare in automatico questo l'accoglimento della domanda e quindi ancora nel guano ancora di che aspetta io spero che le cose si risolvano ma ribadisco qui non si tratta di pensare male e far peccato ma più delle volte si indovina qui si pensa a quello che è la realtà e questa qui e ribadisco di tutta la vostra realtà se ne stanno sbattendo il cazzo tutti e sottolineo tutti perché se io da quelli da quelli che stanno al governo me lo aspetto perché quelli sono fatti così quelli sono marci dentro io vorrei sentire anche le opposizioni perché se qualcuno fa quello che fa ricordatevi per far sì che il male trionfi basta che bene faccia zero ecco questa è l'esemplificazione perfetta per far sì che questo governo faccia i cazzi suoi basta semplicemente che l'opposizione si occupi di cose futili e non di cose concrete noi ci vediamo venerdì e venerdì sarà uno sforgo politico e volevo avvisarvi che stiamo preparando la recensione di fallout non sappiamo se caricarla su questo canale sul secondo o fare due recensioni una un po più vispa e una un po meno controllata da mettere una su un canale uno sull'altro rimane il fatto non sarà una recensione negativa comunque ve lo dico non è una recensione negativa anche se mi sembra che usino la parola capolavoro molto a sproposito ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti